Il 13 settembre riparte la scuola con 857.000 docenti, tutti al loro posto, senza cattere vacanti. Così il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, nell'audizione alla Camera, resta l'obbligo delle mascherine per tutti sopra i sei anni e il Green Pass per i docenti. Piena la sospensione, dal lunedì 13 sarà attiva la piattaforma che permetterà il controllo dei certificati direttamente in segreteria, già vaccinato l'86% del personale, senza alcune dose sulle 7,9. La sfida è non tornare in DAD.